300 metri in più di pista consentirebbero ad aeri da 100 posti di atterrare allo scalo foggiano un sogno per la capitanata una speranza c'è ed arriva direttamente dalle parole dell'assessore regionale trasporti guglielmo minervini occorrono 15 milioni di euro per il tanto agognato allungamento della pista oltre ai terreni si dovranno espropriare cinque manufatti edilizi per una cubatura complessiva di circa 5 mila metri quadri e demolire inoltre sette manufatti abbiamo richiesto che siano finanziati 15 milioni per consentire l'allungamento dal ginolise di altri 300 metri e quindi un incremento dell'operatività dell'aeroporto la cifra sembra sin da subito alta se paragonata ai 47 milioni di euro che occorrono a comiso città siciliana per avere un nuovo scalo a foggia costerebbero cari dunque gli espropri contiamo di ottenere risorse adeguate dal piano per il sud del ministro fitto e nella misura in cui queste risorse arriveranno ormai abbiamo sviluppato progetti preliminari adeguati anche su queste problematiche su queste infrastrutture specifiche saremo pronti a partire per ora nessun soldo arriva a sostegno del progetto soltanto idee speranze soprattutto nessuna richiesta di vettori interessati allo scalo